Io vorrei che oggi Fabio Caressa facesse con me la telecronaca di una partita di Olli e Benji Benvenuti a un nuovo scuola di voce Masterclass Ospite, una voce, una grande voce, Fabio Caressa Lo so ma mi devi insegnare tutto Mi devi insegnare tutto perché noi facciamo la voce ma diciamo che non è in controllo perfetto come la vostra Anche se ci si lavora ma non è in controllo perfetto come riuscite a fare voi quindi è una cosa diversa Vediamoci c'è un gran controllo della situazione però nel vostro caso Quello sì, controllo della situazione è fondamentale anche perché in alcune partite in particolare Se tu usi un tono con una squadra e un tono con un'altra non si può fare Una cosa in imparzialità vocale Quindi c'è un controllo delle emozioni anche lì C'è un controllo dell'emozione ma soprattutto c'è proprio il controllo del tono Certe volte è difficile perché sei allo stadio Quindi magari se segna la squadra di casa il tono è più alto perché c'è più rumore Se segna la squadra che non è in casa magari il tono è più basso e c'è meno rumore Devi stare attento a tenere lo stesso livello Non è facile Non è molto importante il commentatore di essere totalmente imparziale Tu nasci a Roma Sì Ed esordisci quando? Allora io soddisco nel 1988 Non mi viene male In un canale che si chiamava Canale 66 Che era in realtà un secondo canale di un grande canale romano Che è tuttora Teleroma 56 Un canale di grande tradizione proprio sul calcio Io però inizio conducendo a 19 anni una trasmissione che si chiamava Calciomania Mi ha fatto iniziare Michele Plastino Che è uno dei pionieri della televisione locale ma direi sportiva in Italia E poi a un certo punto ti trasferisci perché seguo la tua vocazione La chiamiamo così vocazione di fare il commentatore sportivo Io inizio a fare sempre nell'88 la prima radiocronaca E nel 91 mi prendetele più a Milano per cominciare a commentare Prima calcio internazionale perché non c'era Poi a me piace dire che ho fatto tutti i gradini perché ho fatto calcio internazionale Calcio a 5, calcetto dei campioni che era un calcio a 5 di vecchie glorie Serie C, serie B, serie A, Europa League che allora era Coppa UEFA Coppa dei campioni, nazionale e mondiale Mondiale e quindi tutti ci ricordiamo Andiamo a Berlino con Beppe Bergomi Ecco lì controllo poco Lì non ce n'è più tanto di controllo Noi avevamo deciso prima Io ricordo che ero in macchina che andava allo stadio Prima della semifinale a Dortmund E parlavo con uno dei miei produttori E cercavo un po' di capire Perché un po' prima lo devi scegliere che tipo di tono prendere Perché se no poi quando sei travolto dalle emozioni rischi proprio di perdere dimensione Quindi un piccolo recinto lo devi mettere Però lì proprio scientemente decidemmo che era la semifinale dei mondiali In casa dei campioni e che si sarebbe andato a bella shot Cioè lasciamo, apriamo i pappa fighe Apriamo lo spinnaker e andiamo avanti come tira il vento Hai l'Italia Sei il commentatore italiano della partita dell'Italia, un minimo Sì ma poi io dico sempre che noi siamo dei ripetitori Cioè noi dobbiamo prendere l'emozione che arriva dal campo E riuscire a trasferirla a casa eliminando il vetro Che è esattamente il contrario di quello che dicono ogni tanto E ogni tanto dicono ah voi vi mettete davanti alla partita No è il contrario invece Cioè non filtri da bravo giornalista Ma ripeti l'emozione che arriva dal campo E quello che ha funzionato diciamo nella mia carriera è un po' quello Cioè arrivare direttamente emozionalmente alle persone Quindi in un certo senso doppi la partita Guarda, io quando parlo delle telecronache La telecronaca è da una parte in doppiaggio E dall'altra è proprio la colonna sonora della partita Come la colonna sonora segue l'emozione del film O l'anticipa addirittura certe volte E così secondo me deve essere anche la telecronaca Io l'ho vissuta sempre proprio così Anche perché noi poi in Italia abbiamo una grande tradizione di racconto Dall'epoca classica Quindi Arma, Pirunque, Canò, Troie, Quiprimus, Aboris Fino poi arrivare Cantastorie, Prima I Bardi Quindi abbiamo una grande tradizione I Stornelli insomma Sì, e quella va seguita Certo Tu hai commentato anche il poker Sì Come si commenta il poker? Cioè perché non c'è un rush, no? No Attenzione, butta l'asso No, non lo puoi fare Scarta un re No, non lo puoi Poker ho cominciato con mio fratello E noi l'abbiamo visto negli Stati Uniti Il Texas Hold'em Che era appena arrivato in televisione Era la prima volta che si vedeva un gioco di carta in televisione E allora, grazie a Sky, l'abbiamo portato in Italia all'inizio Abbiamo iniziato a fare le telecronache di poker La telecronaca di poker era un po' cabaret Ok Insultavamo Come giocatore Certo Certo Come sec con due assi Come sec con due assi Il core business era quello E ci avevamo il nostro modo di dire che era Sei un barbaro Vattene via, vattene Non te voglio più vedere per dieci minuti Barbaro Perché quando uno faceva una giocata e non c'era senso Gli davamo del bar Del barbaro Poker abbiamo detto Calcia cinque, sei assi Nuoto Nuoto Come se... Nuoto alle Olimpiadi Con me Vai 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 nuota Guarda come nuota Può sembrare facile perché Insomma rispetto al calcio stanno in una corsia Fanno avanti e indietro Però sono molto vicini sempre tutti Si E poi soprattutto La devi guardare molto sul monitor Perché c'è una grande differenza Tra il fatto che la piscina è così E sul monitor è così invece Sul bidimensionale Capito? E quindi è molto più difficile Vedendo dall'alto Tu vedi meglio Chi è Vedi meglio Però se Mentre nel calcio Diciamo che c'è la tridimensionalità Ugualmente In una piscina Le prime telecroniche ho fatto Facevano molto fatica a passare Dal bidimensionale al tridimensionale Cioè l'occhio non leggeva immediatamente questa cosa Ci ho dovuto mettere un po' di impegno Si è passato anche a Radio 105 Radio 105 per diversi anni E poi mi ha chiamato Linus E mi ha chiamato Zazzaroni E ormai sono più di dieci anni Che lavoro con Zazzaroni a DJ E faccio una trasmissione tutti i sabbi a mezzogiorno Quindi Telecronica Televisione Radio Ma hai anche un canale YouTube Ho un canale YouTube Che abbiamo aperto Perché io poi sono stato convinto Dalla squadra che lavora per me Più che con me Nel senso che lavora con me Ma sono loro che fanno le cose E mi hanno indirizzato bene Perché insomma Ci dà grande soddisfazione Siamo molto contenti E' molto bello anche Il fatto che comunque Poi a un certo punto Devi diversificare Il mezzo di comunicazione Per arrivare a più canali possibili Perché quelli che guardano YouTube È difficile che guardino Alcuni programmi che facciano televisione E quindi per sentirsi giovane Bisogna essere a contatto Con quelli più giovani Sono d'accordo Sono d'accordo E poi Ti svelo una cosa Tu sei sposato con Benedetta Parola O come no? Devi sapere Che il primo canale YouTube Che io e Paolo fondammo Ormai 11 anni fa Si chiamava Cotto e frullato Dove parodizzando Quello che faceva Benedetta In televisione Con i suoi piatti Io cucinavo E poi frullavo tutto E bevevo Ah fantastico Sì 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 Addirittura Lei viene citata In una nostra canzone Dell'epoca Che facemmo la canzone Di Cotto e frullato Che era Canto e ti muochi Frullo e tu cochi Sono la tua Benedetta Parodi Facevamo quella parodia Della parodia Siamo accomunati da sempre In realtà Io e Fabio Spero solo così Cioè Sì no no Io Anza si sia fermata là Abbiamo un amico in comune C'è il fisicone Vorrei Abbiamo un amico in comune Maurizio Trombini Come no Lui rideva molto di questa cosa No fa molto ridere Che io ho fatto la battuta E tu dici Il tuo amico è Trombini Però va bene Eppure Maurizio si chiama Tra l'altro Ma sono dettagli Però noi sappiamo Che tu Hai esordito da molto giovane Nel giornalismo Sì E hai lavorato Per una famosissima rivista Sì Cioè Cioè C'avevo 17 anni Lavoravo per Cioè Per un giornale Che si chiamava Il Corriere Laziale Il Corriere Laziale Faceva tutte le partite Di calcio minore Calcio giovanile E io mi divertivo molto Perché io facevo Il basket di serie D Ciampino Andavo sabato sera Andando ai posti assurdi E poi c'era Cioè Infatti devi sapere Che ci ha contattato Cioè E ti rivolgono Sapevano che eri qua no Ma Maurizio senti Devi fare una cosa Io ho detto Cioè E loro mi hanno detto Devi fare un casting a Fabio Per farlo tornare da noi Perché deve gestire questa cosa Quindi io ho qui alcune lettere A cui dovrai rispondere Benissimo Allora questa è la prima Vai Ciao Fabio Mi chiamo Giovanni E vengo da Napoli Da quando ero bambino Ho sempre avuto la passione Per la corsa con i cammelli Passione 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 che mi accompagna ancora oggi Cammelli e non dromedali No 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 Cammelli Bigomba Vorrei tanto diventare un professionista Ma purtroppo non ho Né un cammello Né un deserto in cui allenarmi Cosa dovrei fare? Abbandonare il mio sogno E continuare a crederci? No Allora guarda Caro Giovanni Giovanni sì Io capisco la difficoltà Per quanto riguarda il deserto Ti consiglio Per abituarti Per acclimatarti Di andare in una spiaggia italiana Nei giorni più caldi Senza acqua E rimanere lì Sotto il sole Per un tempo Che va dalle 11 alle 14 ore Così Tutto il tempo della luce Così c'è Invece per il cammello Ti consiglio di andare In alcuni bar Che adesso ci sono Dove c'è quel gioco Che metti l'euro e devi stare in equilibrio sul toro Sulle cose Perché secondo me Secondo me Fa pratica La numero due La numero due Carissimo Fabio Non ti conosco bene Ma mio papà ti ascolta sempre alla radio Mi serve un favore Mi chiamo Ginevra Ho 12 anni Sono una pattinatrice E vorrei andare alle olimpiadi Capirai quindi Che non ho proprio tempo Di imparare la matematica Puoi dirlo tu a papà Grazie Guardi Io Caro dottore Le potrei dire molte cose Per far sì che lei Possa permettere a sua figlia Di annenarsi a tempo pieno E anche saltare dalla scuola Le potrei dire Che comunque la scuola Si può recuperare E che lo sport Insegna molte cose Comunque vedrà Che se sua figlia Sarà forte nello sport Poi avrà piacere Anche di studiare Tante cose le potrei dire E invece le voglio dire Un'altra cosa che è molto importante Secondo me Culturalmente più significativa Se diventa brava Sua figlia Allora di lei non hai Se fa un sacco di soldi E quello secondo me Può essere una cosa Può essere Ecco Grazie Fabio Sicuramente la piccola Ginevra Sarà molto contenta Di questo punto E ora abbiamo L'ultima L'ultima busta Numero 3 Sono Maurizio Sono andato a Prato Ma vivo a Milano Seguo tantissimo il nuoto E un domani Vorrei diventare Il nuovo Michael Phelps Ho però un piccolo problema Non so a notare E ho paura dell'acqua Cosa posso fare Che se non è facile Io ti do Il numero di telefono Di alcuni calciatori Che non sono capaci A giocare a pallone E odiano anche il calcio Secondo me Da come giocano Se ce l'hanno fatta loro A giocare in Serie A Alcuni l'hanno chiamati Pure dall'estero Vedrai che te Puoi diventare tranquillamente Un campione di nuoto Non ce ne stupo Bocca al lupo Maurizio da Prato Vai Maurizio Comincia con una vasca da bagno Sai che una volta Scusa bene 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 Conduce la telegiornale Studio aperto Prima ancora che iniziasse Cotto e mangiato La Pellegrini Vince l'ennesima medaglia Magari agli europei Mi sembra agli europei La Benedetta Molto compita Fa Grande successo Federica Pellegrini Ancora una volta Campionessa europea Mandano l'intervista Riesce l'intervista E le fa Grandissima Pellegrini Sempre la prima Nella vasca da bagno Perché? Voleva dire in vasca Perché gli avevano scritto In vasca E invece nella vasca da bagno Nella vasca da bagno Fantastico Non fate anch'io di gaffe La storia Dai la più La più eclatante Io dico il nome Il cognome dei giocatori Sempre Derby di Roma Particolarmente teso Per noi è importantissima La postazione Che permetta di vedere Quando c'è calcio d'angolo Deve essere dall'alto Perché Così tu vedi Quando saltano Se invece ce l'hai bassa La postazione Quando saltano Non vedi Vedi solo le gambe Era gennaio Faceva freddo E quindi c'erano 3-4 giocatori Con la calza maglia nera E due attaccanti della Roma Erano Mirko Vucinic E Baptista Detto la bestia Baptista Detto la bestia Giocatore di colore Vucinic Invece Non era di colore E proveniva dai Balcani Calcio d'angolo Mucchio Io vedo Nero Perché E urlo La bestia Uno a zero Era Vucinic Cazzo qua La calza maglia nera Siamo a scuola di voce Quindi parliamo un po' Della tua voce Delle tue caratteristiche vocali Hai un grande vocabolario Io credo molto Nella contaminazione di genere Quindi cerco di portare Delle parole Che vengono usate In altri contesti De contestualizzo E le porto Quindi nella mia telecronaca E poi io C'è una cosa Che consiglio sempre Ai ragazzi Che si muovono Per i primi anni In questo mondo Che è quello di leggere Cioè io mi accorgo Che se io diminuisco Il ritmo di lettura Il mio vocabolario Automaticamente Si impoverisce Perché poi nella vita Di tutti i giorni In realtà noi usiamo Vocabolario molto più ristretto Rispetto alle possibilità Della lingua E quindi è molto importante Leggere perché la lettura Ti porta proprio In testa Dei vocaboli Che altrimenti Magari non ti verrebbero Prima istanza Quindi sei un grande lettore Sono un grandissimo lettore Soprattutto di gialli Ti piacerebbe commentare Sai che ci sono molti canali Che si occupano di crime Mi piacerebbe Molti canali che fanno il crime Io sono molto a passo Proprio li seguo Soprattutto i call case Mi piacciono tantissimo Quindi la possibilità Di riaprire dei vecchi casi Con le nuove tecnologie Adesso stanno scoprendo Molte cose Che appena non si potrebbero scoprire Ecco quella cosa lì A me piace molto Proprio mi appassiona Bene Abbiamo scoperto Un nuovo lato di caresta Tu sei nato a Roma 100% 100% da generazioni Quindi immagino Che a casa tua Ti parlassi E allora Che in casa tua Si parlava romano Con una cadenza romana Però si parla romano Io ogni tanto Quando parlo Parlo proprio romano Non ho preso Tanto accento milanese Se consiglio Sono trent'anni No Direi proprio di no Direi proprio di no C'è qualche modo Di dire che ricordi Qualche scioglilingua romano No scioglilingua no Però la cosa Che più mi è rimasta De romano È mortacci tua Quella è proprio la cosa Non andrà mai via No quella proprio Ogni tanto rischio Che mi esca pure In trasmissione Quando rimango Molto sorpreso Soprattutto quando c'è Di Canio Che è romano pure lui Quello ce l'ho proprio dentro Ma devo dirti Che io sono anche Molto orgoglioso Della radice romana E quindi anche se adesso Mi sento cittadino Adottivo milanese Dopo tanto tempo Mi sento anche milanese Però quello Non l'ho voluto abbandonare E invece c'è qualche dialetto Qualche accento Che ti piace imitare Non lo so se l'ho detto bene Ma più o meno Non lo so se l'ho detto bene Non lo so Ecco questa è la cosa Però ho vissuto Un po' di tempo in Puglia Mi piaceva moltissimo E poi anche se non lo capisco Per niente Io passo molto tempo in Sardegna A me piace moltissimo Il suono del sardo Però mi hanno spiegato Che io sono abituato Al sardo del nord della Gallura Che non è lo stesso del sardo Di giù di Cagliar Cercavo Claudio Perché noi ce l'abbiamo Il montatore del sardo Eia Eia Abbiamo parlato Del commento sportivo La pulizia vocale La conoscitura La conoscitura Senti che La conoscitura La conoscitura È molto colto È coltissima In realtà Se andate a cercare L'ho appena corretto io Il Tre Cani Tu hai una caratteristica A differenza di altri Magari commentatori Che hai Questa R Un po' particolare È moscia Quando io ero bermino Negli anni 60 E' ancora il periodo Che se scrivevi con la sinistra Ti volevano far scrivere con la destra E la R Volevano che andassi al logopedista I miei no Devo dire Però qualcuno diceva Perché non vai dal logopedista Che la cambi Io in realtà L'ho forzata E non è tanto diversa Dalla R normale E devo dire che Secondo me è stata Una caratteristica Che mi ha portato fortuna Anche secondo me Anche per differenziarsi Esatto Degli altri commentatori Ho preparato un gioco adesso Ok Ho qui un cappello Sì A turno Sì Pescheremo un bigliettino Sì E ci sarà scritto il nome Di un personaggio famoso Del mondo del calcio Devo fare l'immigrazione? Certo No E io devo indovinare O viceversa Va bene Vai Non guardare Che qualche nome si vede Ah io non guardo Fai vedere alla camera Chi hai pescato E questo è anche un mio amico Vedi Più facile Come faccio Non ho idea di come Aspetta Ci devo pensare Ho giocato tantissimo Nella mia posizione Sono stato molto contento Di farlo E dai Fabio Lo sai benissimo Che quando facevo Quei gol molto spettacolari Era un po' il mio genio Che veniva fuori Faccio malissimo Non indovinerai mai Anche perché non è Non c'ha inflessioni Di alettare Sto pensando Sto pensando A gol caratteristici Sto pensando A Vedi ho una voce Molto gentile Devo fare una voce Molto gentile Gentile? No no Sai Io sono stato Il capitano Di questa squadra Per tanto tempo Sono stato il vero capitano Sono contento Del Piero Del Piero Per me il vero capitano È Del Piero Bravo Tocca a me Vai Immagino sia difficilissimo Ah no se ridete Allora Sai che secondo me Dalla risata Ho già capito Dai provaci Cassano No no Sto pensando A una frase da dire Andiamo a Berlino Beppe Ma sai Questa era abbastanza facile Era bello Se capitava a me Quello Quello era L'unico Andavo nel panico E se c'era una cosa Che non sopportavo Ha sempre stato La FIFA Il potere Non lo poteva supertare Perché Perché Inizio cose Che Non si potevano dire Mourinho No Non si potevano dire Per me E la schierda Era la cosa Masi importante La cosa Masi importante Era la schierda La mano schierda La mano Ah è Maradona Maradona La mano sinistra Era bellissimo Allora Qualsiasi argentino L'arri fatto uguale Ovviamente Non è che cambiava voce Non so che parla Comincio a entrare nel gioco E mo divento Agonista Vai Ah penso che Tonti Quanti sono i pasti due L'uomo capo Alcuni Questo è facile E guarda Fabio Ti devo dire che Il calcio Il calcio è una cosa Molto importante E bisogna giocherlo Con grande miltere Enrico Sanchi Enrico Sanchi Salutiamo Il grande Enrico Il genio Che ha cambiato il calcio T'aiuto Sì E penso che la partita Abbiamo giocato bene Sicuramente Liberani Poteva Poteva far meglio Ecco C'era Giurano insieme Vai E' grandissimo E che non lo sai Come ho fatto a me Cosmi No è Cosmi Quando ho messo il cappellino Pensavo Iachini Devo dire la verità Perché Iachini c'è il cappello Cosmi Non ho fatto niente Per fare totti Ragazzi vi ricordo sempre Che se volete scoprire Delle curiosità Un po' più interessanti Un po' più segrete Degli ospiti di Scuola di Voce Vi ricordo che esiste La sezione Abbonamento Allora ma Mi voglio fare un po' I fatti tuoi Tu hai studiato Scienze Politiche Alla LUIS E Public Speaking All'estero Hai sempre voluto Occuparti di giornalismo Smurtivo O non trovavi lavoro? Diciamo che investivo Quello che guadagnavo Nel corso Io finito liceo Ho iniziato subito a lavorare Quindi ho fatto L'università in contemporanea Ho creato con un anno e mezzo Di ritardo diciamo Però col massimo 110 Quindi sono molto contento L'estate lo impiegavo Per andare a fare Proprio questi corsi Di lingua di inglese E di spagnolo Public speaking Sia in inglese Che in spagnolo Perché capivo Che nel mondo moderno Era diviso negli anni 90 Anse l'inglese Non si avresti andato Da nessuna parte E che cominciavano A arrivare le multinazionali Però il mio sogno Era fare l'inviato di guerra Da quello che so Lo hai fatto No? In Afghanistan Lo sbaglio Nel 2010 Sì È stato proprio un sogno Per me quello Perché la tesi È stata su Peter Arnett E sulla CNN Quindi gli inviati di guerra E io vedevo questi Grandi inviati E sognavo Di poter stare lì Poi devo dire Che l'ho fatto Nel 2010 E ho capito Che avere Secondo me Una famiglia Dei figli E fare l'inviato di guerra È un bel impegno Perché obiettivamente Capisci Che puoi essere in pericolo Io poi ero embedded Con le truppe italiane Quindi ero molto protetto Ma ci sono alcuni Che invece lo fanno Con molta meno protezione E sono veramente degli eroi Infatti molti poi Purtroppo Conosciamo le storie Ti ricordi Qual è stata La tua prima telecronaca 1987 addirittura Cesena Lazio Radiocronaca di serie B Teleroma Faceva parte di un consorzio Per cui Siccome c'erano problemi Per entrare negli stadi Perché lavoravamo Praticamente senza permessi Senza niente Sai come funzionava? Tu entri allo stadio olimpico Prendevi Quello della SIP Si chiamava allora Sì me la ricordo La SIP Faccivi Senti Mattacchi in telefono Perché c'erano delle linee Non utilizzate Tu gli davi 50 mila Così E lui ti attaccava la linea E riusciva a fare la telecronaca Con quel telefono Allora siccome c'erano Questi problemi Spesso noi Soprattutto per le partite De serie B In quell'anno La Lazio In serie B Facevamo noi Le telecronache Per loro Cioè per la radio Cioè per la radio di Cesena Ah ok Quindi c'era il telecronista Che era il telecronista principale Che faceva la Lazio Per i tifosi della Lazio a Roma E io ero diciamo la riserva Che faceva la telecronaca Ma per la radio di Cesena E quindi la facevi Con la cornetta del telefono? Ah ma io per anni Sono andato avanti Con la cornetta del telefono La cosa migliore era Girare la cornetta E usarla come microfono E usarla come microfono Tanto non avevi bisogno Di sentire Sì però dovevi controllare Che fosse messo bene Il microfono dentro Perché sennò Usciva più metallica Perché Cioè non è che era girata Alcuni si facevano Dai palazzi Se c'erano dei palazzi Per vedere Piccinini Le prime da Genova Li faceva dal palazzo Non vedeva mai Metà campo Io la raccontavano Oppure io sempre a Genova Che era una partita La tribuna era piccola La tribuna stampa Quindi ti beccavano E rischia Che ti cacciassero via C'era una radio Che si chiamava C'è ancora Si chiamava Radio Babboleo Io stavo sotto le gambe Dell'inviata di Radio Babboleo Dell'inviato di Radio Babboleo Brichella E no E mi mettevo con la testa fuori E la facevo solo con la testa Per evitare che mi vedessero Quindi Non avevo un mio posto Io ero sdraiato per terra Ma ti giuro Una cosa Ma tu Ora È difficile sta fatto Ti ricordi quante telecrone Che hai fatto No Non l'ho mai voluto contare Ma molti lo fanno Ce l'hanno tutte segnate Dove Come Io zero Ma io non vivo tanto nel passato Per me La telecrone più importante È la prossima Però Però insomma Se consideri che ho iniziato Nell'87 Sono quasi Quante Quasi Quarattro Sono 30 Io sono dell'86 Quindi Ci sono dei periodi In cui ne facevamo Anche 100 all'anno Quindi ero fatta Meno 4.000 L'avevi fatta Tra le 3-4.000 L'ho fatta Ho sicuramente Più di 500 Quello L'avevo fatto Più o meno Come calcolo Di dirette A parte le telecrone Che sono sopra I 5.000 Pensa te Vorrei fare una cosa Molto bella Perché i nostri fan Seguono molto Il doppiaggio Tu sai Degli anime Dei videogiochi Di tutto questo mondo nerd E quindi io vorrei Che oggi Fabio Caressa Facesse con me La telecronaca Di una partita Di Olli e Benji Ah ma è una meraviglia Italia Giappone Bellissimo Ovviamente abbiamo tagliato Tutti i flashback Nel mezzo Perché se no Una partita durava 22 anni Che ho preparato ovviamente La formazione Attenzione perché c'è L'assalto Della squadra avversaria Cerca di arrivare sul pallone Ecco l'Italia che prosegue C'è un grande contrasto Il pallone però Arriva in profondità Attenzione all'area sinistra Che prova a scattare Verso il centro Prova la copertura Il difensore Entra in scivolata Riesce a colpire il pallone Vediamo se l'arbitro Concede un calcio di punizione No Lascia proseguire E' pronto ad andare in avanti Attenzione che si preparano Gli attaccanti Al centro dell'area di rigore C'è il tentativo disperato Di osservare la posizione Degli avversari Da parte della squadra difensiva E' stato fischiato Probabilmente un calcio di punizione E' già battuto in velocità E allora può perseguire la squadra Vedete che la formazione Tatticamente E' messa in campo In una maniera un po' particolare E' praticamente un 5-5-0 Il pallone in profondità E sta per arrivare Olli C'è l'uscita del portiere Servono uscite alto assolutamente Prima che il pallone Entri in area di rigore Ecco che buono per aria Il portiere in anticipo E' Salva Contro l'attacco nel Giappone Ma attenzione Potrebbe essere poi aria Bravissimo Grande Fabio No ma voi non avete capito Uno L'Italia ha la maglietta verde Infatti non avevo capito Qual era l'una e qual era la Due Si guardavano Sono passati Tu hai viaggiato tanto Per seguire i campionati Mondiali Quindi hai visto le tifoserie Del mondo Qual è lo stadio dove non vorresti tornare mai più In Argentina Coppa America Facciamo me pare Brasile Perù Che finisce il rigore Brasile Paraguay In genere noi arriviamo e c'è la postazione Con le cuffie No Tutto apposto Io arrivo Alla postazione Zero Il produttore Dico guarda che No ma mi hanno detto che vengono Eh però mancano due La partita Passa un'ora Arriva uno Ti giuro si presenta Con una scatola di legno Così Con tre pulsanti E mette quella scatola là Io guardo il produttore E faccio Ma non potrà mai funzionare Anche perché non c'aveva i cavi Dove l'attacca sta cosa E fa No no non ti preoccupare Mi hanno detto che è tutto a posto Uno di questi Loro produttori argentini Attacca un jack E tira fuori un'antenna Sai quelle che c'avevi sopra i televisori Quelli gialli Degli anni 70 Quella dritta E incomincia a fare così E al telefono Chiamava quello dall'altra parte Che diceva Lo prendi Lo prendi E io gli guardavo Ma un po' ha funzionato No ma mi hanno detto che ha funzionato Che anno era? Ma no ma era tipo 2008 2008 Allora funzionava che L'antenna doveva trasmettere All'altra antenna Quest'atto Prendeva il segnale dell'antenna S'attaccava A una fly Satellitare Di un altro canale Al quale Che era un amico suo Gli aveva chiesto permesso Ma neanche Marconi A suoi tempi Aveva mai potuto fare una cosa Sai come ho fatto la telecronaca? E' passato Quello della zip argentina E io ho preso 30 dollari Gli ho detto Senti Attaccami il telefono Per cortesia Tu sei tornato agli albori E l'ho fatta al telefono Perché quella roba lì Non è mai funzionato L'ho fatta al telefono Ti lascio immaginare La qualità audio E io e Beppe Stavamo con la cornetta così E ci passavamo la cornetta Finisce la partita Chiamo Un responsabile a Sky E questo mi fa Si sentiva male Ma i mortacci Ma mai mandano Vedi i mortacci Vedi che asce subito Ma i mortacci Ma mai mandano Tutti gli sperati Con l'antenna Del 47 E se sentiva male Poi mi dici Allora Fabio La tua voce Ormai è iconica Io qui ho Alcuni numeri di telefono Di circoli sportivi Di Bocce Di Milano La sfida che ti propongo È perché io di solito Ai miei ospiti di scuola di voce Insegno a fare una voce E dico Chiama qualcuno Che ti conosce bene Non farti riconoscere Con la voce Che ti ho insegnato E qui Sarà un po' diverso Tu Con la tua voce Dovrai far credere Che sei tu Ah Ti spiego Dovranno crederti Perché tu Sei Fabio Caressa Che telefona A questi circoli Di bocce Di Milano Perché sei stato chiamato Per commentare I mondiali di bocce E quindi Per allenarti Nella telecronaca Vuoi andare da loro A commentare Le partite di bocce Ma poi io Dite che non scherzo Perché se no Poi mi aspettano Poi me ne diranno È bocce Mi ho diversi Ma quanti me ne avete trovati Ci sono tutti questi circoli Di bocce a Milano Poi d'estate Io gioco a bocce Ah vedi È tutto collegato Vedi che in queste ore C'erano tutti avviso di chiamato E mi richiamano tutti Poi vengono la cieca a te Pronto? Pronto? Buongiorno Sono Fabio Caressa Di Sky Il telecronista Le volevo Pronto? Mi sente? Mi senti? Ho bisogno di una cortesia Io devo fare La telecronaca Di alcune partite Adesso non le sto a spiegare Però sono dei tornei internazionali Di bocce Che poi non andranno su Sky Ma andranno su un altro canale E devo fare delle telecronache Solo che io sono un po' a digiuno Diciamoli Tecnica E vorrei Se è possibile Venire lì E voi mi insegnate un po' delle cose Perché io voglio essere preparato Prima di fare questa cosa È possibile? Mi potete fare questa cortesia? Beh guardi Se vieni qua Noi generalmente Trovo qualcuno Dalle 3 alle 6 E poi Lì mi potete spiegare Perché so che ci sono diverse discipline Cioè Praticamente La nostra bocciofila Penso che sia l'unica Che è rimasta a Milano Ed è la classica Bocciofila Ci giochi Il campo Alla milanese Ah ecco Cioè Alla milanese com'è? Vabbè Però poi mi spiegate Quando vengo lì Ecco Alla milanese Vuol dire Che praticamente È l'unico campo Che è rimasto Perché È al contrario Di quello Che è chiamato Il nazionale Cioè Il gioco all'italiana Si Si Giocano diritto Eh esatto Lui praticamente È un campo In cui ci sono Il nostro campo Si Il nostro È a tre conetti Si gioca di traverso Vabbè Però va bene Perché io credo Che quello che devo fare Probabilmente È a Milano Quindi sarà probabilmente Nello stesso modo Ma chi è il più forte Lì nel vostro circolo Proprio Il bomber del circolo Guardi Io sono Adesso Recentemente Abbiamo fatto Una gara qua E sono Io che L'ho vinta io Ah quindi Sto parlando col boss Insomma Dicevamo Lei è il king Dele bocce Adesso no Ma sono uno Che ha sempre Praticamente Alla milanese Io gioco Da Siccome ho Una bella età Ormai Guardi Lei è gentilissimo Sono più di 50 anni Che gioco E ho sempre giocato Alla milanese Purtroppo In via Va bene Le faccio sapere È stato C'è una porticina Deve suonare Perché è un club privato Ah ecco Un club privato Quindi Ma comunque la chiamo prima Quando vengo Così magari Mi fa entrare E vediamo Vediamo la giocata Intanto è stato gentilissimo L'abbraccio Le faccio sapere Grazie Buongiorno Grazie Che meraviglia No Lo salutiamo Signore 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 Maraviglioso Era il campione di bocce Tra l'altro Ha più di 50 anni E beh Ma il signore C'è una razza L'edà mio papà Cioè Un signore Poi alla milanese Voi avete capito Io ho capito Ma detraverso No la mia È impanato Esatto Però No adesso A parte tutto È stato gentilissimo Lo ringraziamo E poi Quello è bellissimo Quando gli ho detto Ma chi è più forte Io Sono io Non voglio Non voglio dire Che sia più forte Le dico che l'ultimo torneo L'ho vinto io Poi faccia lei Si è risposto io Al telefono Evidentemente Tu conti Grazie signore È stato gentilissimo Andiamo Vi prego Andiamo Facciamo un video lì Ma andiamo Andiamo Ma a me piace tantissimo Io pure Eh no andiamo Dai mettiamoci d'accordo Andiamo dal signor Rossi Facciamo un video Non la dobbiamo fare così Secondo me Perché è in linea Molto secondo me Con il ciclo Si dillo Si mette lì La bottiglia di grappa E quando si sbaglia Un colpo Pum Così Appena sbagli il primo Poi ne sbagli Sei Sette Fai sempre più Però secondo me Viene un video fantastico Dobbiamo fare assolutamente Olla Paolo Segna E boccia la milanese Con quelle che costano 20-30 mila euro Oh 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 Abbiamo parlato di tutta la tua carriera Di come hai iniziato Di come hai proseguito Di come sei arrivato Alle bocce No? Però c'è qualche progetto per il futuro? Qualcosa dove Ti potremo sentire? Allora Progetti per il futuro Però ce ne sono sempre Mi avrebbero proposto Di fare qualcosa a teatro Allora tu devi sapere Che il sogno di mio padre Sarebbe stato fare l'attore E quindi questa cosa Un po' ce l'ha trasmessa Poi fondamentalmente Io non sono in grado Di fare l'attore Ovviamente È tutta un'altra professionalità Però ecco Quella roba lì Se mai un giorno Riuscissimo a trovare Una soluzione Diciamo nelle mie Possibili Nelle mie cose Quindi è più una cosa Da raccontatore Diciamo più che Ok Da attore proprio Mi piacerebbe molto Però ecco Quando ho provato a fare Di doppiaggi Ogni tanto così Io mi sono divertito tantissimo E poi Il progetto per il futuro Più importante È che ci sono I prossimi europei Dal 14 giugno A 14 luglio Che noi trasmetteremo E quando ci sono Questi importanti appuntamenti Della nazionale Quando arrivi lì Poi ti cresce Una grande adrenalina Anche perché io Nella mia vita Ho avuto la grandissima fortuna Di fare la telecomaca Di una finale mondiale vinta E di una finale europeo vinta E quindi Non c'è due senza tre Riuscire a fare il terzo colpo Sarebbe veramente fantastico Ci sarà la messa in onda Di Pechino Express Ho partecipato Con mia figlia Devo dire È stata un'esperienza Veramente indimenticabile Perché poi Il rapporto padre figlia Si cementa Nelle difficoltà Quando sei proprio a nudo Ti capisci molto meglio È stata un'esperienza fantastica Poi Celentano Ha dedicato una canzone A tua figlia Io mi ricordo Quando era bambina Appena nata Una caressa in un pugno Ragazzi Io ovviamente Vi lascio in grafica In descrizioni Tutti i link Tutti i canali Dove potete trovare Fabio I suoi contenuti Il suo canale YouTube Ovviamente E io ti ringrazio Di essere stato mio ospite Ci vediamo sulla bocciofila Alla bocciofila Commentate Perché verrete come pubblico Al grande torneo di bocce Che vedrà Me contro Fabio Caressa Grazie Ciao Ciao amici Grazie Ma guarda un po' chi c'è Sì lo so che stai per cliccare Abbonati E fai bene Perché grazie all'abbonamento Potrai avere tantissimi vantaggi Pazzeschi Provare per credere